Un pomeriggio al Parco Miralfiore, tra natura e giochi all'aperto, per conoscere le attività ideate da Escudo, in associazione con Asi, per il prossimo centro estivo. Inizieremo le attività il 12 di giugno, appena si chiudono le scuole primarie, così almeno daremo un servizio puntuale alle famiglie, come ogni anno. Ormai sono 15 anni che facciamo l'attività e proponiamo centri estivi per bambini, dai 6 ai 13 anni, partendo appena chiudono le scuole primarie, e poi invece con l'età dei più piccolini, quando chiudono le scuole di infanzia. Quindi dai 3 ai 5 anni inizieremo il 3 di luglio quest'anno. Gli educatori e lo staff di Escudo anche quest'anno organizzano un servizio estivo aperto a tutte le famiglie e accogliendo bambini nelle sedi dei centri estivi Parco e Mare a Pesaro e Fosso Segiore. Diverse le modalità di iscrizione, dall'incontro in sede alla possibilità di compilare un modulo online. Siccome abbiamo due sedi, una è al mare in località Fosso Segiore e una al Parco Miralfiore qui a Pesaro, avremo bisogno di due punti di iscrizione. Quindi ci si può vedere direttamente nella sede qui al parco oppure al mare, o meglio ancora online tramite il sito internet abbiamo un link, un modulo di prescrizione che facilita un po' anche le informazioni su costi, su orari, su varie modalità, pacchetti settimanali, le varie attività che facciamo eccetera. In più abbiamo il sito che è www.escudovolley.it che appunto sul quale vengono descritte tutte le attività dei centri estivi Parco e Mare. Molto contenti come Asi Pesaro ma in realtà molto contento anche personalmente parlando di essere qua presente a fianco a Francesco dell'ASD Escudo che ogni anno organizza da tantissimo tempo i centri estivi sportivi Parco e Mare e siamo contenti di questo inizio di collaborazione che da settembre 2022 sta andando avanti. Abbiamo in cantiere assieme a Francesco tanti eventi e quindi non vediamo l'ora di poterli andare a concretizzare poi in campo sia sportivo e non solo. Quindi una presentazione quella di oggi fantastica e un'imbocca al lupo enorme per tutta l'attività estiva che dal 12 giugno partirà. Asi e non solo, supporto importante anche da parte del Comune di Pesaro per il centro estivo Targato e Scudo. Stanno partendo le prime presentazioni dei centri estivi, quello delle Scudo Volley, sono dei centri estivi consolidati, sono tante le attività dove c'è modo di collaborare sempre con le Scudo Volley in modo positivo e propositivo. Ritengo che questi momenti di sport per i ragazzi extrascolastici siano comunque dei momenti di crescita, di condivisione, di socializzazione che fanno bene a loro e anche ai genitori.